Pace e bene cari amici, bentrovati! In questa prima domenica dopo Natale festeggiamo la Santa famiglia. Dunque mediteremo sul testo di oggi tratto dal capitolo secondo di Matteo tenendo conto di questa festività. Anzitutto non voglio scoprire l'acqua calda ma è bello ricordare che il nostro Signore Dio nel suo farsi uomo, dunque nel suo percorrere tutte le tappe della vita umana, nasce e cresce in una famiglia dove brilla quella complementarietà meravigliosa sognata da Dio frutto dell'incontro tra il mondo maschile, ecco il papà San Giuseppe, il mondo femminile, ecco la mamma la Vergine Maria e in questa famiglia Gesù sperimenta la prima culla potremmo dire d'amore, la prima scuola di pace e di vita. Nascendo in una famiglia nostro Signore incontra le difficoltà che vivono e soffrono tante famiglie. Venendo il testo di oggi ci rendiamo conto come la Santa famiglia tutto sia stata tranne la famiglia versione mulino bianco, cioè famigliuola dove tutti sono lindi e giulivi e saltellano per i prati dopo aver fatto una lauta a colazione, né tantomeno la Santa Famiglia e quella famiglia versione immaginette dove gli angioletti strimpellano l'arpa mentre San Giuseppe leviga il legno. Tutto era tranne questa, era una famiglia reale e concreta che ha attraversato tante prove e tante sofferenze. Pensate il dramma dell'esclusione quando Gesù doveva nascere, oggi ci è mostrato l'esilio che devono vivere, cioè emigrare per salvarsi la vita, l'incertezza del quotidiano, il dover ritornare, il vivere veramente alla giornata. Ecco nostro Signore santifica la famiglia e percorre tutti i drammi di tante famiglie e proprio così redime la storia. In particolare il testo di oggi mette in luce il ruolo paterno di San Giuseppe, ruolo che potremmo riassumere nella parola custodia. San Giuseppe custodisce la vita di Gesù bambino e della Vergine Maria e in lui appunto brilla il compito e ruolo meraviglioso del padre, ruolo che oggi purtroppo è in seria difficoltà. Si sprecano gli scritti, gli studi e le considerazioni sul fatto che questa sia una generazione senza padri. Ruolo del padre lo vediamo in San Giuseppe e saper custodire la vita di chi è affidato a lui, dunque della sposa e dei figli. Usando un'espressione cara a Costanza Miriano, il padre è chiamato ad essere come le mura di casa, capace di proteggere, custodire la vita di coloro che stanno all'interno. Ruolo del padre è quello di saper custodire, proteggere, far sentire protetta, amata la moglie. E' il ruolo di custodire i propri figli unendo l'aspetto dell'autorevolezza, la capacità di proteggerli, di mettere dei limiti, quella parte normativa fondamentale perché il bambino cresca bene, felice e insieme a questa il saperlo spingere, il saperlo incoraggiare, il saperlo preparare ad affrontare le sfide della vita, permettendogli di sognare, permettendogli di osare, di provare, di mettersi in gioco, preparandolo dunque ad affrontare il quotidiano. San Giuseppe ci mostra la custodia nel particolare, nel proteggere la sua famiglia da un pericolo. Tanti padri oggi purtroppo non fanno questo. Innanzitutto, così passiamo, abbiamo diverse immagini di padri, no? Volendo simpaticamente fare una carrellata, si passa dal padre versione figlio maggiore della moglie che lei si ritrova a dover curare insieme a tutti i figli, incapace persino di scaldarsi un uovo, o che litiga con i figli ormai cresciutelli per chi debba giocare alla Playstation. Passando ai padri versione orso Bruno che ogni tanto spunta dalla grotta della stanza, magari emettendo qualche verso di lamentela visti i problemi della politica o del lavoro. Passando poi ai padri versione turisti che ogni tanto girano stupiti per casa alla ricerca di dove siano i calzini, ma andando alle sfide anche più serie purtroppo a volte abbiamo dei padri che sono totalmente ignari della vita dei figli, del cosa fanno, del dove vanno, senza il benché minimo controllo e contatto con la loro vita, dei padri unicamente presi da se stessi, dal proprio lavoro, dai propri problemi, e che sono purtroppo incapaci anche di affrontare i problemi. San Giuseppe nello specifico si ritrova a dover affrontare una cosa seria. Si ritrova a dover affrontare il problema del custodire la vita minacciata di suo figlio e di sua moglie. Quindi ha un problema complesso. Dove trova San Giuseppe la forza per affrontarlo? Innanzitutto notiamo che San Giuseppe non si lascia andare a degli atteggiamenti scriteriati, tipo crisi di nervosismo, crisi isteriche, oppure non si rifugia nell'alcolo, nel vizio per non pensare al problema, non si sdraia nel letto passandoci ore e ore formato depressione, non delega tutto alla moglie, tipo quei padri che qualsiasi cosa vai da mamma, costringendo la povera donna ad assumere un ruolo che non le spetta, perché la donna volendo ne farebbe anche a meno di quel ruolo di autorevolezza, di quella parte ferma e normativa che spetterebbe di più al padre. San Giuseppe non fa nulla di tutto ciò. In particolare il Vangelo evidenzia quale sia, potremmo dire, il suo segreto. San Giuseppe è un uomo estremamente silenzioso, ma come vi ho detto è un silenzio frutto di un'interiorità abitata, cioè il suo silenzio non è il monologo frustrato di una persona che vive in una continua lamentela, ma è un silenzio esteriore frutto di un profondo dialogo interiore con Dio. San Giuseppe nella sua interiorità, nel suo dialogo con Dio attinge a quella forza, a quella sapienza che lo rendono idoneo ad affrontare le sfide della vita e a scegliere ciò che è il vero bene. In particolare il Vangelo evidenzia come Dio entri e parli attraverso il sogno a San Giuseppe, indica l'azione del divino che entra in questo caso quando, quando uno dorme, in questo caso nel sogno, momento in cui le difese sono abbassate, in cui la persona è impotente. San Giuseppe era in un momento dove aveva bisogno di un aiuto di più, potremmo dire, dove si ritrovava ad affrontare qualcosa di più grande di lui e trova in Dio ed è proprio nell'ascolto di Dio che San Giuseppe coglie la scelta giusta da fare e al suo risveglio è subito pronto a metterla in atto, alzatosi, fece come Dio gli aveva detto. Ci mostra proprio questa capacità grande di recepire Dio nella sua vita e il suo ascolto che è veramente come in latino un ascolto obbediente, l'obbedienza da obaudire, un ascolto che diventa un mettere in atto ciò che ha sentito. Questo è molto bello ed è molto importante perché proprio in questa interiorità, in questo dialogo con Dio che San Giuseppe, vi dicevo, trova luce e forza per scegliere ciò che è buono. Sicuramente non è interesse del Vangelo dirci anche il dialogo, il suo ascolto anche nei confronti di Maria, in una famiglia dove circola amore, dove c'è un rispetto grande, c'è questa capacità meravigliosa di sapersi ascoltare e di scegliere quella parte più bella che spesso emerge dal confronto, in questo caso anche marito-moglie. Ma qui San Giuseppe, vi dicevo, ha un segreto profondo che è il suo rapporto con Dio. Vedete, a volte tanti di noi, ma tutti potremmo dire, affrontiamo cose più grandi di noi. Il mito dell'uomo che non deve chiedere mai è roba da mitologia greca, versione atlante che porta sulle sue spalle il mondo o tipo pubblicità varie, ma realmente, realisticamente parlando non è così. Arriva il momento in cui uno sperimenta la sua fragilità, la sua incompiutezza, dove ti rendi conto che da solo non ce la fai. La vita ti presenta cose più grandi di te. Ecco, ciò che conta, ci dice San Giuseppe, non è essere forti così in generale, in astratto, ma è essere alleati col più forte. San Giuseppe sa essere un buon padre perché anzitutto vive da figlio del padre, in un dialogo profondo col padre. Allora oggi vogliamo chiedere a San Giuseppe, alla sua intercessione, che tanti padri possano maturare e ritrovare il senso profondo della loro missione, che tante famiglie che oggi vivono difficoltà serie possano ritrovare in Dio la gioia di amarsi, la forza per rialzarsi, sapendo che, come vediamo dal Vangelo, anche le difficoltà più grandi possono essere dei luoghi di risurrezione. Anche le crisi, come dice la parola stessa, possono essere non solo delle difficoltà, ma delle occasioni profonde, perché ciò che non si è ben costruito si possa riedificare meglio. Buon cammino a tutti. Dio vi benedica. Pace e bene. Grazie.